Musica Ciao a tutti e coci in questo nuovo video di LBX e in questo diciottesimo episodio ovviamente proseguiamo da dove eravamo rimasti cioè eravamo al capitolo 5 e stavamo pianificando diciamo un modo per andare al palazzo di Kaido allora aspetta mi è andata via il corso della missione non so cosa devo fare ma mi sembra che dovevamo andare qua dobbiamo prepararci per andare là eh si infatti al palazzo Kaido e andiamo al covo segreto diciamo dell'OAS eh si centro di controllo e parliamo con Tyler sei pronto a iniziare Van? forza iniziamo bene iniziamo ok perfetto questo è il palazzo di Kaido mamma mia anzi no no questo non è il palazzo di Kaido che sto a dire eh infatti il centro commerciale di Grace Hills wow non c'erò mai stato prima ok lasciate stare quello nero al palazzo di Kaido non so perché ho detto una stupidata come questa Gabe dati una calmata non possiamo permetterci nessuna distrazione a me sembra un centro commerciale come tutti gli altri Rina è sicura che qui ci sia un passaggio che porta al palazzo Kaido? si ne sono certa l'entrata dovrebbe essere sotto quella fontana andiamo a controllare e va bene andiamo a controllare allora si ma ok eh volevo cliccare a questo invece mi ha fatto parlare con Rina ma di notte come hanno fatto a entrare al centro commerciale tanto per sapere boh vabbè entriamo eccellente da questo punto in poi dovremmo separarci come abbiamo pianificato Lex Rina e io faremo saltare la corrente voi invece passerete dalle fogne te lo ripeto Van fai attenzione va bene si ce lo chiede pure e vabbè andiamo questo posto fa proprio paura potrebbe saltarci addosso qualcosa in ogni momento squilla il telefono Van mi ricevi? forte e chiaro signor Tyler dovete dividervi in due squadre e cercare le stanze ogni squadra sarà composta da tre tre di voi Van Kazooja Emi voi tre dovete andare a nord delle fogne Hans Gabe e Mika voi dovete muovervi verso sud ricevuto Gabe Mika conto su di voi ti copro le spalle Hans io ti seguo Hans dei laser ad alta frequenza sono stati installati nelle fogne per ragioni di sicurezza dovrebbe esserci un interruttore per disattivarli da qualche parte cercatelo con la massima priorità ho inviato dei dati al vostro pilota LBX per guidarvi verso l'obiettivo vi aiuteranno a proseguire ricevuto ok hanno lasciato il gruppo perché vanno dall'altra parte Rina ti ha inviato i dati di navigazione per guidarti al tuo obiettivo la freccia nella minimappa sul touch screen indica la destinazione ti aiuto d'occhio la freccia mentre ti sposti nelle fogne e la posta in arrivo non può mancare ok la freccia sarebbe quella lì però è meglio muoversi perché qui c'è qualcosa che ci indica pericolo e mi sa che pericolo significa sfide LBX in arrivo ok questo è uno quanto pare credo di aver trovato l'interruttore se lo premo dovrei riuscire a disattivare il laser ok premilo allora ok e questo è andato perfetto perfetto ora possiamo procedere allora andiamo avanti di qua ecco infatti e vabbè siamo attaccati attaccati da guardia LBX allora la prima sfida direi di farla questa qua poi lasciamo perdere cioè le prossime le faccio si però non però metto in pausa il video invece questa qui la giochiamo cioè durante il video le prossime invece metto in pausa ok iniziamo subito la battaglia buono forse è meglio cambiare arma eh infatti vedo che fa molti più danni grande così l'abbiamo evitato ok carichiamo subito un bel colpo grande così e uno è fuori ok ok questo qui aspettiamo che si rialza vai così anche questo è andato grande perfetto no qui ho sbagliato dai voglio fare l'attacco fammi fare l'attacco ok dovrebbe andare no no l'ha evitato ok tre contro uno stiamo distruggendo sto qua no ha colpito Kazuya ma per curiosità posso fare i danni anche ai miei compagni di squadra se lo sapete ditemelo perché è una curiosità non credo eh mi sembra una stupidata però però magari medaglia fatta in caso ok quella si che è interessante per guadagnarci un po' di soldi ok andiamo ok dobbiamo andare di qua c'è un altro interruttore lì ho visto uno scrigno ma ci andiamo dopo tanto dobbiamo ripassare di lì o almeno credo accendiamo anche quest'altro interruttore vediamo quale laser si toglie adesso ah quello ah si c'è un altro scrigno di là va bene andiamo là anche se vedo un sacco di strade va bene andiamo là difensore 2.0 va bene un'unità ausiliaria se non sbaglio ok un'altra sfida stop il video ci vediamo quando l'ho finita perfetto anche questa sfida è andata ci ho messo un minuto e venti wow oh quanti belli oggetti medaglia fatta in casa medaglia scintillante e altri belli oggetti bene 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 ci voleva soprattutto la medaglia scintillante che se ho capito bene serve a molto cioè fa guadagnare un sacco di di crediti intanto prendiamo questo scrigno che non fa mica male idro repellente S e vabbè perché lasciarlo lì ok adesso dobbiamo andare di qua quest'altro interruttore vediamo adesso dove dobbiamo passare ah ok quello lì in mezzo va bene dobbiamo rifare il giro mi sa bene avanti il prossimo ok ecco vabbè avanti il prossimo spero che non intendeva questa però vabbè abbiamo da fare questa sfida e a tra poco quando la finisco perfetto perfetto vinto pure facendo il colpo di rottura mamma mia incredibile andiamo oh buono buono ricarica rapida ok anche se mi sembra che non è una un attacco speciale proprio però vabbè medaglia fatta in casa ok e altri officina quelle robe lì con gli oggetti là adesso dobbiamo andare qua di nuovo fare il giro di qua e passare in mezzo dove prima c'era il laser che abbiamo appena disattivato ah ok finisce qui cioè no adesso c'è una scenetta allarme intruso inizio rimozione com'è possibile che cos'è scusate ragazzi abbiamo commesso un errore e un secure bot è riuscito a intercettarci ah siamo circondati da guardie lbx aiuto emi gabe calma tirazza di fifone e lasciami non sono mica la tua mamma non toccare hans per favore mantenete la calma rina c'è un modo per fermare l'allarme dammi un secondo sto cercando di escogitare qualcosa trovato vanna non lontano da te c'è un interruttore per disattivare l'allarme spegnilo presto ho inviato i dati dal tuo piloto lbx e la via più veloce per raggiungerlo d'accordo ok noi stavamo andando qua ah ok abbiamo proprio messo lì la via per andare là perfetto e purtroppo ci hanno intercettato pure a noi guardie lbx ok ah tra poco quando avrò finito la sfida perfetto anche questa è andata per fortuna ci abbiamo messo un po' meno di prima vabbè bersaglio mirato è ora utilizzabile da kazuya walker perfetto allora dopo gliela metto medaglia fatta in casa sempre ormai è l'oggetto fisso che otteniamo ogni sfida ok andiamo a disattivare l'interruttore ho sbagliato strada ok dobbiamo andare di qua ah ok di qua e lì c'è l'interruttore o almeno credo sì ma no perché perché mi ha beccato proprio in questo momento perché stavo lì davanti all'interruttore l'ho schiacciato pure a per premerlo perché mi doveva beccare in questo momento ma tra poco ok quest'altra battaglia invece è andata via abbastanza velocemente 45 secondi esatti poi mega proiettile attacco saiettante bene 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 altre nuove tecniche due medaglie scintillanti due medaglie fatte in casa mamma mia dopo faremo una bella scorta quando torniamo al negozio di navarro ecco vedete stavo qua davanti all'interruttore e mi hanno beccato quelli ma perché io non lo so perché succedono queste cose ok adesso vediamo no non è ancora l'allarme non disattiviamo ancora l'allarme ma ci facciamo ancora strada mi sa per il vero interruttore credo spero mamma mia quanta strada per quanta strada per infiltrarci in un palazzo cioè sembra che hanno messo così tanta strada apposta per ecco infatti ecco per farci fare tutte queste sfide mi sa che hanno messo tutta sta strada apposta per quello eh a tra poco ok anche questa è andata stavo per fare il colpo di rottura ma purtroppo è arrivato kazuya e ha colpito l'avversario proprio nel momento che stavo caricando l'attacco speciale e l'ha fatto fuori cattivo kazuya ok io volevo prima però aprire questo scrigno mi interessava di più dell'allarme ecco non abbiamo tenuto niente di che però vabbè mi interessava lo stesso aprirlo ora vediamo se questo è l'allarme l'interruttore dell'allarme credo di si ecco invece no non è questo mi sa che è quello lì però ok ci siamo quasi dai cioè adesso mi sa che ci mettiamo un video intero solo per entrarci in quel palazzo mi sa di si perché siamo già 13 minuti passati ok eh metto ancora in pausa visto che questi continuano a beccarmi queste sfide e faccio la sfida velocemente a tra poco ok ce l'abbiamo fatta anche stavolta un minuto e 12 credevo di averci messo di meno aura elettrica perfetto anche questa va bene medaglia scintillante ok qua già si sente l'allarme che stiamo per disattivare però ok dovrebbe essere questo finalmente si è fermato ok meno male state bene ragazzi si siamo tutti interi ti dobbiamo favore van procedete con cautela non sappiamo cos'altro ci sia da attendervi più avanti ricevuto certamente ok mi sa che dobbiamo andare qua un altro interruttore ah quindi ancora c'è strada da fare tutto quello che tutto il casino che abbiamo fatto adesso era solo per l'interruttore dell'allarme qui immagino che sta scendendo il ponte si altri chilometri da fare perfetto ok dai forse sta procedendo bene perché ho parlato ok si è andata bene strano intruso intercettato intruso intercettato perfetto di nuovo l'allarme o no dobbiamo fare qualcosa prima che lanci di nuovo l'allarme non abbiamo altra scelta dobbiamo distruggerlo hai ragione forza perfetto distruggiamo un secure bot ah no abbatti tutte le sentinelle e le bix ma è un robot oh quello cioè era un secure bot quante ce ne saranno adesso vabbè che sono di livello 8 anzi io farei prima una manutenzione ok non sono di livello 8 però vediamo quanti ce ne saranno è questo che mi interessa di più perché distruggerli non è che ci vuole tanto però il problema è un altro ok è già uno è andato no perché sono sceso di qua ok potrei già fare un attacco un attacco speciale ma arrivano dal nulla tutti sti qua dai finisce ok è un altro perfetto ora facciamo così che forse è meglio no ah no aspetta non vanno via i punti così ok bene stoccata fulminea mi sono dimenticato di mettere le tattiche e gli attacchi speciali agli altri invece vabbè dopo ce li metto se mi ricordo ok ok la tensione è recuperata dai che manca un colpo grande anche questo è distrutto ma quanti ne arriveranno ancora ok ok grande anche questo è andato ora io posso ancora usare la tattica questa volta l'ha stoccata tridente grande così e ho visto che ne è comparso uno dietro di me perfetto dove sta quella ah no credevo che era qua no dov'è ok no io volevo io volevo quello io volevo ho visto un oggetto qua ok mi ha aumentato il pv ecco questo mi ha colpito e me li ha di nuovo diminuiti grande io volevo colpire questo dietro che è quasi fuori no ma dove scappa stai qua oh ok fatti colpire grande grande così anche questo è andato ah mi sa che abbiamo finito grande meno male è andata bene perfetto medaglia fatta in casa ormai otteniamo sempre quello va bene però dipende voglio vedere non mi ricordo quanto ci guadagno però va bene più ci è mancato poco giusto in tempo procediamo il palazzo kaido è poco più avanti perfetto io vorrei prima un metamò però per fermarci qui direi visto che ormai siamo quasi 19 minuti di video introfolarti nel palazzo kaido si ok vedere una una scritta con una domanda così ok un metamò grande e mi ce l'hai fatta lex ci siamo riuniti stiamo tutti bene ottimo lavoro ora inizia la vera sfida i sistemi di sicurezza del palazzo kaido saranno sicuramente più numerosi troverete anche dei sicur bot sparsi ah niente ci può fermare anzi non commettere passi falsi ricorda il nostro obiettivo primario è la sicurezza del dottor Yamano d'accordo tra poco ci vedremo papà va bene dai si sono uniti al gruppo e direi invece di fermarci qua visto che ormai siamo quasi a 20 minuti di video direi di salvare e fermarci qua per questo video quindi io vi ricordo se volete di iscrivervi al canale se non avete già fatto anche profili twitter e più in particolare facebook perchè è lì che scrivo diciamo tutte le notizie sul canale se magari ci sono problemi con i video oppure ritardi scrivo tutto lì come è già successo infatti qualche giorno fa un po' di giorni fa circa una settimana fa quando non ho caricato video per un po' di giorni 4 giorni mi sembra e ho scritto lì il motivo quindi direi che ovviamente tutti i link li trovate in descrizione ci vediamo allora al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti Grazie.